Può l'uomo vedere oltre quello che è? Quando ci prova, vede quello che non c'è. Se si ritorci in se stesso, non va al di là del proprio naso. E dunque, o vede Dio, che è più di un paralogismo, o vede un altro uomo uguale a sé. Ogni esperienza cognitiva, in fondo è totologica.